Eccoci nuovamente con voi per dare il nostro modesto contributo alla vostra capacità di resistenza. Come sta andando? Avete elaborato raffinate tecniche di sopravvivenza? Letture, bricolage casalingo, giardinaggio? Speriamo che anche l'ascolto musicale figuri tra queste. Ritorniamo con un repertorio a noi più confacente. Iniziamo con l'aria che Lauretta canta al padre Gianni Schicchi nell'omonima opera di Giacomo Puccini, proposto dalla nostra Sherry. Tenete sempre presente che questi video sono fatti spesso in condizioni non felicissime. In questo caso l'accompagnamento della base è probabilmente un po' debole, ma l'interpretazione è sicuramente notevole. Completiamo questo dittico con una registrazione proposta da Claudia, una piacevolissima aria da camera per trio, voce, flauto, Ruth Mullins e pianoforte. Il pianista è Alex Wilson, che salutiamo. Hi Alex, how are you? Bravissimo musicista con il quale ho già collaborato spesso e che è testato il nostro supporto musicale per i concerti fatti in Devon nello scorso febbraio. Il brano è di Leo DeLib, del quale avrete già sicuramente ascoltato il celeberrimo duetto dei fiori dall'opera Lachmè. Provate un po' a curiosare sul web, ritracciatelo, è un brano stupendo. A presto!